Il 60% dei tradimenti avviene sul posto di lavoro. Pompamagna, il tuo primo film da protagonista. Io voglio sapere se mi tradisce al di fuori del posto di lavoro. Chi è questa donna? È la moglie. No, la moglie sono io. Dottore, desidererei tornare in coma. Qual è che ti scopi la mia ragazza da quando abbiamo iniziato il film? Suo figlio è gay ed io sono il suo ragazzo. Ma avete fumato marijuana? No. Avreste un po' anche per me. Tu mi nascondi qualcosa al cinema. Grazie.